Grazie, grazie a voi, intanto grazie ad Ada per l'invito, alla Filca e ai relatori che hanno presentato non solo riflessioni critiche ma anche proposte e credo che questo ci aiuterà a lavorare anche in futuro. Io parto da una considerazione che a me pare fondamentale, noi dobbiamo avere consapevolezza del perché abbiamo tutte queste risorse e la finalità alla quale dobbiamo guardare perché sempre più spesso sento parlare tante risorse, 210 miliardi dall'Europa, i fondi strutturali regionali, il fondo di sviluppo e coesione, tantissime risorse. Vorrei che ci concentrassimo un po' di più, come stamattina si è cercato di fare, sul perché arrivano queste risorse e che cosa noi dobbiamo fare di queste risorse. Che arrivano tante risorse, che le dobbiamo spendere se siamo capaci in tempi rapidi e le dobbiamo spendere bene, ok. Per fare che cosa? Noi abbiamo bisogno di recuperare ritardi che vengono dal passato perché altrimenti tutto ci porta poi a dire non ce la facciamo, ce la dobbiamo fare. E qua si misura la qualità delle classi dirigenti, non c'è sconto per nessuno. O ce la facciamo o non ce la facciamo. Se ce la facciamo siamo adeguati, se non ce la facciamo dobbiamo passare la mano rapidamente. Io non è che mi sono dimessa così perché non mi piaceva fare la Ministra dell'Agricoltura. Mi piaceva e modestamente pensavo anche di farla bene. Mi sono dimessa perché capivo che non eravamo più in condizione. Perché se arrivano i provvedimenti in Consiglio dei Ministri e non vanno avanti, se basta il piccolo comitato che solleva il problema e si blocca la riflessione prima ancora della decisione, a quel punto sei fuori dal tempo. Allora noi abbiamo due questioni fondamentali. Una dei ritardi che sono stati accumulati, la burocrazia, ma anche qui diciamocelo chiaro, spesso si scarica sulla burocrazia quella che è l'incapacità della politica di decidere. Quando qui si voleva bloccare la TAP non è che era un problema della burocrazia, era la politica che si faceva tremare la mano. E per fortuna che ci sono stati quelli, io sono stata tra quelli, che mi hanno complicato non poco la vita a me, alle persone che lavorano con me, alla mia famiglia, ma sono stati tra quelli che hanno detto che quell'opera era strategica e si doveva fare. Oggi si vede che quell'aria ha la bandiera blu, che non c'è nessun disastro ambientale e che per fortuna che abbiamo un po' di gas in più perché adesso ragioniamo tutti sull'aumento del prezzo del gas e non ci rendiamo conto di che cosa sarebbe stato non far arrivare quel gas aggiuntivo che sta già nelle direttrici di distribuzione nazionali e non solo. Ecco, allora, quando tu ti fai tremare la mano e non hai l'adeguatezza a rispondere nei tempi, e tu sei nella fase in cui incominci a produrre danni per il Paese e noi questo lo dovevamo assolutamente impedire. Adesso però non c'è scusante per nessuno, perché a quei ritardi che già avevamo e che richiedevano semplificazione e coraggio nelle decisioni, si sono aggiunti i tanti disastri che il Covid purtroppo ha determinato. Sia dal punto di vista sanitario, e quindi diciamo questo, è più nella consapevolezza di tutti, i morti, le persone che sono state colpite negli affetti, le difficoltà ad uscire ancora completamente da questa situazione, ma le tante difficoltà sul sistema produttivo, sul sistema economico e le tante persone che hanno perso il posto di lavoro. Non è che le casse integrazioni, i bonus e le ripetute proroghe di casse integrazioni hanno risolto il problema, stanno tamponando il problema. Ma ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro o che sono stati già messi in discussione o rischiano di essere messi in discussione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i fondi strutturali, i fondi coesione e sviluppo, devono rispondere a questo. Per questo non possiamo fallire e avere i tempi scanditi dall'Europa, noi dobbiamo assumerlo non come un elemento che ci vincola ai 210 miliardi del PNRR, che ci vincola complessivamente su ogni opera e ritorno alle opere. È importante non solo il fatto che arrivano tante risorse, ma anche di come vengono ripartite e di come noi le utilizziamo. Io sono fermamente convinta, come mi avrete sentito dire tante volte, che noi dobbiamo recuperare il divario nord-sud, dobbiamo recuperare il divario sociale, oltre che quello territoriale, perché abbiamo ancora tantissime donne e tantissimi ragazzi e ragazze che non entrano nel mercato del lavoro, perché non abbiamo una struttura adeguata a rispondere alle loro competenze. E se quelle competenze non le facciamo entrare nel mondo del lavoro, noi rimaniamo un Paese arretrato. Allora, il PNRR e tutte le risorse devono essere finalizzate a infrastrutturare il Paese e infrastrutturare ovviamente, e dal punto di vista materiale, e ci ritorniamo subito, dal punto di vista immateriale, Colau ci sta lavorando, norme sono state già inserite, altre sono in fase di elaborazione, perché infrastrutturare dal punto di vista immateriale significa anche rispondere a una questione che il Covid ci ha messo dinnanzi. Noi abbiamo sempre più le persone che si concentrano nei grandi centri abitati, nelle grandi città, eppure con il Covid abbiamo detto a tutte le persone, mi raccomando, e continuiamo a dire, distanziamento. Il distanziamento è la misura che ci mette in condizione di contrastare la diffusione del virus. Abbiamo detto lavoro da casa, ora smart working sarebbe una discussione lunga anche su come si utilizzano certi strumenti, ma se di questo non ne vogliamo fare un discorso momentaneo, il distanziamento, e noi sappiamo che purtroppo con queste situazioni faremo i conti per parecchio tempo, noi dobbiamo sapere che dobbiamo distanziare anche all'interno delle città, perché altrimenti la stessa infrastruttura materiale non regge. E per fare questo non è che puoi dire a un ragazzo, a una ragazza, te ne vai nelle aree interne, e però poi devi fare un'ora di giro per capire se trovi un posto dove ti puoi connettere, se trovi un posto dove puoi lavorare in modo continuo senza avere interruzione. Vuol dire che tu devi infrastrutturare il territorio, devi creare le condizioni perché nelle aree interne si possa avere la stessa condizione di vita che uno ha se vive nel centro di una grande città. Questa è una sfida che noi abbiamo e la digitalizzazione ti deve mettere in condizione di rispondere anche a questo come ad altro, così come l'infrastrutturazione sociale. Se noi vogliamo parlare di queste competenze e guardate, noi siamo un paese dove ci si laurea molto poco e però se noi andiamo a leggere dentro le casistiche dei laureati molte sono donne e sono quelle che si laureano con voti più alti e però sono quelle che più sono fuori dal mondo del lavoro ma se le vogliamo portare nel mondo del lavoro vuol dire che noi abbiamo un'infrastrutturazione sociale come quella che deve mettere in condizione le famiglie di non essere costretti a scegliere tra fare un figlio o andare a lavorare e di non essere costretti a scegliere su come farsi carico di questi bambini così come delle persone anziane noi ce ne dobbiamo fare carico nella progettazione che mettiamo in campo. Quindi dire investiamo sugli asili nido significa dire che investiamo a tutto tondo sul fatto che le persone devono avere una qualità della vita superiore a quella che oggi hanno e devono avere la possibilità di entrare nel mondo del lavoro senza sensi di colpa. Allora dentro questo che cosa noi dobbiamo fare e dobbiamo fare rapidamente? Dare corso alla progettazione che si sta facendo noi abbiamo queste importanti perché queste stazioni appartanti come ANAS come RFI sono sicuramente diciamo delle istituzioni appartanti di altissimo livello e quindi su questo diciamo siamo agevolati ma per rispondere a una affermazione e provocazione che faceva il sindaco Caroppo voglio dire ci sono ritardi dobbiamo farci carico a tutti i livelli di dare gli strumenti perché si possa meglio progettare ma voglio sperare che questo paese non parte da zero perché quando abbiamo fatto le campagne elettorali avremmo pure parlato di progetti di questioni che abbiamo in mente di realizzare di quello che serve al territorio di come dobbiamo andare a dare una risposta ai bisogni reali dei cittadini adesso è il momento di uscire dalle solitudini e di fare rete dobbiamo dare una responsabilità in più alle aree vaste alle province io non ho nessuna difficoltà perché quando capisci dove stanno i colli di bottiglia devi intervenire per dare risposta a quei colli di bottiglia non è che puoi avere un approccio ideologico del dire è stata fatta un'operazione non funziona granché e però li rimaniamo allora c'è bisogno saranno le regioni saranno le aree vaste e deve essere anche il potere sostitutivo del governo nazionale sarà chiunque l'unica cosa che noi non possiamo contemplare è che quelle risorse non si spendano nei tempi dati e non si spendano bene perché poi è evidente che c'è anche una priorità delle opere sulle quali intervenire voi avete detto avete richiamato delle opere io non darò le cifre perché la relazione che ringrazio il relatore è stata molto puntuale anche sul riparto delle risorse richiamo soltanto il fatto che se gran parte delle risorse del ministero delle infrastrutture che già una grande parte delle risorse del PNRR le risorse destinate al ministero delle infrastrutture in gran parte sono destinate al mezzogiorno è perché abbiamo la consapevolezza che questo paese riparte se riparte a trazione meridionale certo che c'è bisogno di fare infrastrutture anche al nord ma quelle nel mezzogiorno sono essenziali perché si possa diventare anche attrattori di investimenti perché questo è un punto che spesso viene sottovalutato noi dobbiamo fare le infrastrutture non perché dobbiamo dire che siamo belli siamo a livello degli altri dobbiamo fare le infrastrutture perché se facciamo le infrastrutture noi possiamo creare negli interporti delle grandi opportunità di sviluppo se non c'è un'infrastruttura che ti mette in condizione di essere adeguata rispetto ad altri territori tu non attrerrai qui investimenti e i nostri investimenti locali non sono sufficienti per dare risposta a quell'emergenza che abbiamo che si chiama lavoro e lavoro per le nuove generazioni allora stiamo lavorando sul uno dice Napoli Bari è una cosa della quale si parla da molto tempo si si parla da molto tempo però non è stata fatta la Napoli Bari io per quelli che mi hanno seguita e che hanno interlocuito con me sanno che io sto seguendo tutti avendo anche la delega del governo per i commissariamenti delle infrastrutture ferroviarie è un'opera che sto seguendo così come sono andata sugli altri cantieri perché nel 2023 la Napoli Bari deve essere in realtà non dobbiamo parlare ancora di progetto ma ne parliamo da tanto tempo sì anche della 275 parliamo da tanto tempo 27 28 anni siamo arrivati alla determinazione anche se non era tra le grandi opere anche se non è che è stato nominato il commissario io credo che è stato nominato un commissario che il territorio lo conosce e che quindi sa e che conosce anche la determinazione con la quale noi seguiamo queste operazioni non perché io sono di Lecce perché con la stessa determinazione sono andata a Genova per dire che il grande valico non si doveva bloccare ho chiamato le grandi imprese per dire avete ragione perché ponete un problema vero quello dell'aumento dei costi è un problema vero ma noi abbiamo un obiettivo che è quello di dare a questo paese quelle opere che sono necessarie a sbloccare investimenti a dare garanzia alle imprese che investono e a garantire posti di lavoro quelli attuali e quelli che si devono creare ho chiesto loro un sacrificio ho chiesto lo sforzo di riprendere a lavorare impegnando ovviamente il governo che noi sulla questione degli aumenti dei costi delle materie prime nella legge di bilancio dobbiamo dare una risposta così come stiamo dando proprio in questi giorni è stato già firmato il decreto e abbiamo destinato un miliardo per l'anticipazione del 30% per le opere perché era un elemento che l'Ance ci ha posto ma ci hanno posto tutto il sistema delle imprese perché se tu fai una norma e poi non metti risorse e poi quelle risorse non le eroghi è evidente che crei non un collo di bottiglia crei proprio un tappo e a quel punto fai saltare tutti i tempi e anche la realizzabilità dell'opera allora stiamo lavorando su questo e quindi anche sulla 275 io credo che il primo lotto è già commissariato sul secondo lotto c'è questo piano di fattibilità economico che deve andare in corso rapidamente e nei prossimi giorni rivedrò il commissario perché su questo si deve andare avanti ci sono diciamo tutti gli interventi che come il nostro moderatore mi richiamava non solo per quanto riguarda queste grandi inoltre c'è la questione della linea adriatica lì non solo adesso arriva diciamo questo lavoro che è stato fatto e che ho commissionato a RFI ma nella legge di bilancio ci devono essere le risorse perché anche qui quella non è un'opera che sta nel piano nazionale di ripresa e resilienza perché sapete che se non sono completabili in modo funzionale entro il 2026 non possono entrare lì ma nella legge di bilancio io ho chiesto che ci siano non meno di 5 miliardi destinati alla velocizzazione all'alta capacità per quanto riguarda il Bologna Lecce Taranto perché appunto non dobbiamo essere dei solitari Bologna Lecce Taranto e il Milano Lecce che devono avere una maggiore efficienza anche qui io lo dico con chiarezza perché in politica bisogna avere non solo il coraggio ma bisogna avere la coerenza di dire cose che se una persona la incontri dopo un anno o dopo due anni ti devi poter guardare in faccia e non vergognarti di promesse che hai fatto e che non sei stato in grado di mantenere perché sapevi già di non poter mantenere io lo dico con chiarezza vedo anche quello che si muove nel territorio vedo però anche tanta propaganda io non andrò a chiedere allo Stato di impegnare una quantità enorme di risorse per avere tre minuti di risparmio nel nel viaggio io chiedo di avere una velocizzazione che mi deve mettere in condizione di accedere in tempi più rapidi e in sicurezza per la mobilità delle persone e di avere l'alta capacità che mi deve mettere in condizione di far viaggiare le merci in tempi rapidi e a costi sostenibili perché questa è una priorità che noi abbiamo questa è una priorità che noi abbiamo nel piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono tante risorse destinate alla intermodalità perché tanti parlano di sostenibilità ambientale e poi non a casa mia e questa diciamo è una cosa che non può essere consentita e poi non ci si rende conto che per avere la sostenibilità ambientale bisogna avere la sostenibilità economica e allora io a un'impresa posso chiedere di fare uno sforzo in più se la metto in condizione di avere una competitività anche nel riuscire a collocare i suoi prodotti in quei mercati dove si possono permettere il costo del made in Italy e il costo del made in Italy significa qualità qualità della progettazione qualità della realizzazione significa salute e sicurezza dei lavoratori noi penso che tutti sappiamo quelli che stiamo qui siamo consapevoli di che cosa significa tutto questo allora noi su questo diciamo ci stiamo lavorando dicendo che i 630 milioni che sono destinati alle ZES devono partire subito sto lavorando con la direzione competente del mio ministero e con la ministra Carfagna per fare il decreto perché le ZES sono state pensate nel 2016 sono state normate il 2017 siamo al 2021 e siamo diciamo lì adesso non c'è più tempo da perdere perché le ZES perché le ZES se partono effettivamente possono essere il luogo dove noi attraiamo investimenti dove noi mettiamo a valore il territorio dove noi ai porti diamo un ruolo che è quello che meritano di avere perché se noi vogliamo essere davvero fattore di sviluppo dobbiamo mettere in condizione tutto il sistema trasportistico di comunicare e di dare risposte a quelle che sono le esigenze del territorio e allora il fatto di aver investito per finalizzare diciamo gli strumenti sulle ZES il fatto di aver investito sui porti rilanciandoli fortemente il fatto di dare risorse anche ai porti di questa regione per esempio per la elettrificazione delle banchine è stata una scelta che a me pare una scelta importante perché dire che se a Taranto o a Brindisi arrivano le navi che possono essere quelli di trasporto merci che possono essere le navi che possono essere le navi da crociera e possono stazionare nel porto tenendo i motori accesi con l'energia pulita e non con l'energia inquinante che purtroppo ancora utilizzano significa dare un contributo a ridurre l'emissione di CO2 nell'ambiente ma anche alla qualità della vita di quelle di quelle città certo che questo non è sufficiente insieme a questo c'è tutto il pezzo che noi dobbiamo continuare a sostenere che è quello di spostare i prodotti dalle strade alle ferrovie io credo e come territorio scommetterei molto e spero che si riescano a mettere insieme imprenditori per dare via allo scalo di Lecce Surbo che da tanti anni è fermo far partire lo scalo Lecce Surbo è un contributo alla sostenibilità ambientale ma è un grande contributo anche alla sostenibilità economica ed è un contributo alla qualità del lavoro perché io penso che se noi spostiamo quei 380 camion che settimanalmente fanno da Lecce a Forlì per portare le merci se noi li spostiamo su treno e la notte viaggiano in tranquillità potremmo anche avere magari dei giovani che si avvicinano magari anche delle donne che si avvicinano voglio lanciare un progetto su questo perché noi abbiamo carenza in Italia si parla tanto di disoccupazione che purtroppo è un dato reale ma si parla meno e però purtroppo questo è un tema che abbiamo di tanti posti di lavoro che non vengono occupati perché non abbiamo le competenze perché c'è un problema nell'orientamento perché c'è un problema nella formazione nella formazione continua e nella formazione nei luoghi formali e noi questo lo dobbiamo recuperare però io difficilmente riesco a dire a un ragazzo tu vai a fare l'autista e poi devi fare 24 ore poi magari ti fermi a metà strada poi torni a casa tua se io invece dico tu potrai fare l'ultimo miglio il penultimo miglio che è quello all'interno della tua regione poi invece quel camion io lo metto sulla ferrovia lo faccio arrivare a 7-800 km e poi da lì c'è un autista che fa un altro pezzo di lavoro forse riesco a dare una risposta dal punto di vista del lavoro della qualità del lavoro riesco a dare una risposta dal punto di vista ambientale riesco a dare una risposta della sostenibilità economica perché se non ho le strade intasate e i prodotti anche agroalimentari di questa regione arrivano sui mercati dove vengono richiesti in modo integro e in tempi sostenibili perché se arrivano un giorno dopo quei prodotti non hanno più la stessa appetibilità e quindi non hanno più la stessa la stessa redditività questi sono i punti fondamentali sui quali sui quali stiamo sui quali stiamo lavorando e credo che mettere insieme gli interventi sulle strade sui porti sulle ferrovie sono scelte importanti che dobbiamo saper sostenere e dobbiamo saper sostenere anche come territori e credo che il ruolo delle organizzazioni sindacali in questo è un ruolo importante non solo perché dà risposte ai rappresentati delle organizzazioni sindacali quindi ai lavoratrici e ai lavoratori ma anche perché il sindacato confederale per la sua natura di rappresentanza generale si fa carico non solo del bisogno del lavoratore ma si fa carico del lavoratore a tutto tondo quindi anche come cittadino e quindi come un soggetto politico che contribuisce al benessere del territorio un altro tema che vorrei brevemente sottolineare è quello dei progetti di riqualificazione sono stati richiamati da un intervento e sono gestiti direttamente dal dal ministero nel quale io svolgo adesso la mia la mia funzione su 193 progetti 21 sono progetti pugliesi 3 di questa città io credo che aver finanziato il progetto per la creazione di nuovi alloggi a Santa Rosa ma anche di recupero di alcune strutture che stanno in quel quartiere è un dato importante così come il recupero di questa importante struttura del Galateo non dobbiamo fermarci qui perché noi sappiamo ma sappiamo anche che per avere finanziati progetti i progetti bisogna presentarli e bisogna presentare progetti di qualità perché adesso la sfida è sulla qualità e più siamo in grado di presentare progetti qualitativi perché su quella misura noi stiamo lavorando per avere ulteriori risorse non solo per soddisfare tutti i progetti che erano stati presentati 223 rispetto ai 191 finanziati ma anche per avere nuove linee di intervento perché anche qui io credo che il recupero del patrimonio è un'azione importante non so se il governo deciderà di prorogare i bonus così come sono adesso si sta lavorando si sta lavorando si assumerà una decisione che necessariamente sarà una decisione collegiale all'interno del Consiglio dei Ministri io personalmente vi posso dire la mia idea che i bonus dopo un certo punto o finiscono perché era un incentivo per dare una spinta in quella fase o diventano strutturali perché altrimenti non si capisce quindi diciamo se diventano strutturali diventano poi uno strumento di programmazione a più medio e lungo termine ma questa diciamo non sono oggi in grado di dirvi qual è la decisione che sarà assunta sicuramente non è in scadenza in termini immediati diciamo questo perché sappiamo anche dei ritardi che ci sono stati nell'avvio proprio per quei colli di bottiglia che con gli interventi che abbiamo fatto sulla semplificazione sul primo decreto che era diciamo abbastanza limitato sul secondo decreto per la semplificazione e il lavoro che stiamo facendo perché sapete che c'è una disegno di legge delega che è stato presentato in Parlamento per quanto riguarda gli appalti e anche lì diciamo è un altro punto importante che ci vedrà impegnati nel confronto anche a livello a livello nazionale non un altro punto diciamo che è stato richiamato e quello proprio nella relazione la strada statale sette terre anche qui diciamo non è che si parla solo di grandi opere e quindi quelle sono fondamentali anche opere medie opere piccole però sono importanti perché non averle significa avere una limitazione del territorio e quindi dell'opportunità di avere sviluppo e investimenti nel territorio oltre che qualità della vita dei cittadini e l'ultimo esempio che vorrei fare e poi spero di aver risposto a tutti gli stimoli o a una parte degli stimoli che sono stati avanzati è la questione dell'energia pulita io credo che noi dobbiamo puntare diciamo sia per quanto riguarda le costruzioni a recuperare patrimonio laddove questo è possibile e non consumare suolo e anche per quanto riguarda le energie alternative io credo che noi dobbiamo puntare a rafforzare le energie alternative senza consumare suolo da ministra dell'agricoltura e spero che il progetto continua a portarlo avanti avevo avanzato proprio nel piano nazionale di ripresa e resilienza il progetto di attrezzare energia strutture per energia alternativa su tutti gli edifici agricoli perché quello è un modo per non consumare suolo ma accumulare tanta tanta energia da mettere da mettere nella disponibilità dei cittadini e in questo modo noi dobbiamo continuare ad agire perché altrimenti come dire se non capiamo che senza energia non possiamo andare avanti e che dobbiamo trovare il modo per produrla ma dobbiamo avere anche la necessaria gradualità facevo prima un riferimento al gas è evidente che puntiamo alla decarbonizzazione totale e quindi al non utilizzo delle fonti fossili ma tra il carbone e il gas noi sappiamo che il gas può essere un prodotto di transizione e quindi è evidente che dobbiamo rafforzare anche quelle infrastrutture senza bloccarci sul resto e nel piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono due interventi che vengono fatti per l'idrogeno e uno di questi è proprio sul Lecce Gallipoli dove vengono destinati 50 milioni di euro per il progetto sperimentale dell'idrogeno questa è una sfida che tutti noi abbiamo dinanzi e io credo che se sappiamo fare sistema qui lo dico diciamo veramente da donna del sud se superiamo la nostra propensione ad essere soli e riusciamo a fare rete noi oggi abbiamo delle grandi opportunità ma quel difetto noi dobbiamo essere in grado di superarlo tutti insieme e il covid penso che ci ha messo nella condizione di darci anche una spinta da questo punto di vista io nel momento in cui mi trovo a riflettere su questa situazione anche nelle scelte che quotidianamente dobbiamo fare mi fermo a riflettere su come il covid ha segnato le nostre vite non solo dal punto di vista economico ne abbiamo parlato ma anche dal punto di vista umano e personale il covid ha esplicitato fino in fondo che cosa significa la solitudine stare chiusi a casa stare chiusi a casa da ragazzi senza avere la possibilità di frequentarsi senza avere la possibilità di confrontarsi con i propri docenti con i propri amici di scuola stare chiusi a casa da anziani o stare chiusi nell'RSA senza poter avere la visita di una persona cara ecco quella solitudine noi dobbiamo sempre tenerla a mente per dire che non quando diventiamo anziani e ci rendiamo conto che stare da soli è una cosa tristissima ma anche nelle nostre azioni quotidiane anche nelle nostre funzioni dobbiamo avere sempre consapevolezza che non solo nessuno basta da solo ma che da soli noi siamo meno impattanti di quanto possiamo esserlo se riusciamo a lavorare a pensare a progettare insieme e quindi a costruire soluzioni per il nostro paese e per il nostro territorio grazie grazie viceministro io per